Assessore Longi, questa mattina ho un incontro onnicomprensivo con tutti i dirigenti scolastici degli istituti di Sciacca, sia scuola primaria che gli istituti superiori. Sì, è stata un'iniziativa che ho voluto perché secondo me il punto di partenza per poter portare avanti una progettualità, una programmazione, deve essere quella di ascoltare quelle che sono le esigenze di chi vive questa realtà. Il tavolo di lavoro che è venuto fuori è stato veramente un tavolo propositivo dove si è creata una grande armonia, ho notato una grande armonia anche tra i diversi dirigenti proprio motivati da una finalità, cioè quello di fare, realizzare per i ragazzi, per i bambini un futuro di formazione importante, cioè i ragazzi e i giovani sono il futuro della nostra società e quindi è lì che bisogna lavorare e se si mettono queste forze in sinergia effettivamente si può fare molto. Quindi quello che è uscito fuori dal lavoro che abbiamo fatto oggi è quello di mettere anche le varie proposte e iniziative, concordarle prima, cioè fare diversi tavoli di questo tipo dove ognuno porta avanti le proprie problematiche e possono così mettersi in rete anche quelle che sono le proposte per dare un'offerta maggiore ai nostri giovani. Da questo punto di vista la collaborazione del Comune sarà massima. Lo scorso inverno abbiamo assistito ad un caso che è scoppiato che riguarda i riscaldamenti nelle scuole primarie, la scuola primarie di Sciocca che molte erano sfornite, le caldaie non erano state messe in funzione in tempo con l'arrivo del freddo, si sta lavorando adesso? Sì, infatti su questo stiamo dando delle precise direttive perché questo è un tema che deve necessariamente programmarsi e quindi bisogna ritagliare le risorse affinché non accada, non accada una cosa. Quindi la programmazione è fondamentale non soltanto per quanto riguarda il riscaldamento ma anche per la scerbatura, la disinfestazione, quelle che sono le necessità immediate della scuola. Anche l'assessore Alongi si prepara al suono della campanella che arriverà a settembre quindi il Comune arriverà preparato, speriamo. Speriamo, speriamo. Ce la stiamo mettendo tutta. Grazie a tutti.